Ho detto televisiva, ci sono sposata e manco te lo ricordi, hai detto che eri sposata civilmente, poi arriverà, avevi fatto anche vedere l'anello. Ho fatto vedere l'anello, certo, perché l'anello me l'ha mandato lui, l'anello. Ma a parte che io non me lo sarei sposato mai uno che mi manda l'anello per posta. Cioè, vi voglio dire che per stemperare il clima. A me non mandano niente, non mandano mai niente. Ti dico, guarda, vai tu con tutto l'anello.